Bene, adesso possiamo anche dimenticarci del program CS, ma siamo più consapevoli di quello che sta succedendo. Allora, se questo che sto definendo è una classe, io posso andare nel costruttore di questa classe che corrisponde alla finestra ed è lì che posso mettere qualcosa che so a questo punto verrà mandato automaticamente in esecuzione quando verrà creato un esemplare qualsiasi facendo partire il programma di questo oggetto, di questa form. Andiamo sul codice, vi ricordo che se non volete tenere lo schermo splittato in due potete facilmente passare dalla form visuale al codice con F7 e dal codice alla form visuale con Shift F7, oltre ovviamente a poter usare i comandi qua sotto forma di bottone. Quindi, questo è un pezzo della classe, perché una parte è gestita in automatico da qualche altro sorgente che non vediamo, però lo capiamo per il fatto che qui c'è questo parzial davanti, vuol dire parziale, una parte. Quindi vuol dire che tu stai lavorando con una parte, quella che tocca a te, programmatore, così non fai pasticci con quella che tocca a me, visual studio, della classe form 1, che deriva da quella generica di Windows delle form e che noi adesso stiamo personalizzando. Questo è il suo costruttore. Qualcosa fa lui in automatico, questo richiamo a un metodo chiamato initialize component, che guarda caso, come suggerisce il nome, si preoccupa di disporre tutti i componenti visuali sulla form, come io li ho indicati qua sotto a colpi di mouse, e li crea, li aggiunge, li posiziona e li attiva. Qua sotto io posso andare a scrivere del codice, con la tranquillità, con la consapevolezza che gli elementi, le combo, le caselle e così via, a questo punto già esistono e già sono disponibili per eventuali comandi. E' qui che io posso scrivere un piccolo ciclo for, non so, da 1 a 10, da 1 a 15, che aggiunge questi numeri nella combo delle quantità, così che in partenza, invece di trovarmi la combo vuota, mi troverò già dei valori preimpostati. Allora, scriviamo questo ciclo, for, int, beh, andiamo con la classica i, quindi, però non partiamo con 0, perché qua 0 quantità non avrebbe senso, quindi per i che vado a 1, arriviamo fino, non so, a 15, come quantità, i più più, dobbiamo chiedere alla combo box di aggiungere, perché è come se mandassimo dei messaggi agli oggetti, chiediamo alla combo box di aggiungere una riga corrispondente al valore che ha in questo momento la i. Quindi, siccome è alla combo box quantità lb che devo comandare qualche cosa, inizio con il suo nome, quantità, non lb, pardon, cb, combo box, quanta cb, l'elenco dei valori di una combo box, vi ricordo, è un oggetto, un elenco, chiamato items, che espone, oltre ad alcune proprietà, come sapere quanti sono in elenco, che è questo count, vedete, la proprietà con la manina, ho anche dei metodi, che sono quelli con il quadratino, il mattoncino violetto, e questa roba qui, questi trattini, quello che mi interessa è proprio il primo, add, vuol dire, aggiungi, vi dice tutto oltretutto, vi fermate, aggiungi un elemento all'elenco di elementi per il controllo, bla bla bla, combo box, ok, mi dice anche più o meno cosa devo, int, object collection.ed, object item, mi sta dicendo, guarda, io accetto, per aggiungerlo in elenco, praticamente qualsiasi cosa, perché object è la classe più generica, che rappresenta un oggetto generico nel punto net, tu puoi darmi una stringa, puoi darmi un intero, puoi darmi un double, io macino tutto e lo aggiungo, in qualche modo, punto add, quello che gli chiedo di fare, ad aggiungere come object, in realtà è un semplice intero, che corrisponde al valore che ha la i in questo momento, finito, vediamo se è vero, mando in esecuzione, con F5, che è la modalità anche, che mi consentirebbe di fare del debug, questa volta mi aspetto di avere qui l'elenco da 1 a 15, e così è. Se non vi piace che in partenza qui non ci sia nulla, ma volete che in automatico parta, che so, su valore 1, si può fare, devo controllare un'altra proprietà, che è il selected index, che è quella proprietà della combo box, che mi dice qual è, se c'è, la riga selezionata, come eravamo prima, senza selezione, il valore di selected index è meno 1, che vuol dire non è stato scelto nulla, poi, da 0 al numero di elementi in elenco meno 1, corrisponde invece a una scelta veramente effettuata, quindi scelgo il 6, il selected index è 5, scelgo 1, il selected index è 0, e così via. Chiudo, andiamo qui, quindi come commento posso mettere, pre-seleziono il primo valore, e come faccio? Adesso, vado a cambiare di quantità cb, il valore della proprietà, selected index, eccolo qua, e gli assegno 0. Ormai avete capito che un po' in tutte queste situazioni si inizia a contare da 0, perché di fatto è come se fosse un vettore delle righe inserite, anche se in realtà è una lista, perché è dinamica, può partire vuota e può diventare lunga, fino a contenere migliaia di elementi, senza problemi, usando RAM dinamica, esattamente la memoria di cui ha bisogno. Se c'era un esempio, per capire quanto fosse importante la parte che abbiamo visto con il G++, questo è uno di quelli. Vediamo, F5, eccolo qua, in partenza 1, benissimo. Poi, questo è sistemato. E non vorrei essere costretto a fare click, vedete qui su descrizione, per cominciare a costituire il mio catalogo, perché prima devo riempire un po' di voci qui, no? Prima per dire compro uno di che? Anzi, l'appetito viene mangiando, forse potevamo mettere disabilitate queste cose qua, perché finché non c'è qualcosa qui, come faccio io ad aggiungere, giusto? Adesso sistemiamo, andiamo a mettere enabled false per questo, enabled false per questo, e poi alla prima aggiunta andremo a sbloccarli. Però, un passettino per volta. Quindi, io non voglio essere costretto a fare click qui per scrivere, voglio che parta subito pronto per scrivere qui. Possiamo sfruttare un comando, che è il comando focus, che è quello che dà il fuoco, cioè l'attenzione all'elemento desiderato. Stavo pensando che anche lo scontrino è meglio allora disabilitare questo e questo. Chiudo E cominciamo intanto dalla cosa più semplice, che è andare, che lo posso fare tra parentesi, non uno per uno, se non ricordo male. Clicco su questo lb, voglio renderlo disabilitato, no? Andare a cambiare. Poi, attenzione, premo e tengo premuto il tasto control, ctrl, seleziono col clic sinistro anche questo. E2, E3, E4, E5, E6, e se non faccio un macello, allora, tutti questi oggetti hanno comunque la proprietà enabled. Allora, Visual Studio mi consente di andare a settarla in un colpo solo per tutti. Quindi vado su enabled, lo metto a false, vedete che gli elementi sono ancora selezionati, no, non lo vedete perché sono fuori del quadro di registrazione, eccoli qua. Metto a false e lo sto facendo per tutti, spero, se no faccio una figura. Allora, adesso vado qui, tolgo la selezione con un clic, vado su uno qualunque e voglio vedere di qua se è rimasto enabled a false. Vi è andata male, non potete prendermi in giro. Ok. Vediamo come appare. Allora, quantità, vedete, uno ma non posso cambiare perché non ho ancora nessun prodotto da aggiungere, e quindi anche il bottone, quantità, il bottone anche aggiunge allo scontrino non funziona. Anche qui non posso interagire in nessun modo. Perfetto, mi piace. Ora, dobbiamo dire alla test box prodotto, TXT, di guadagnarsi il focus, di accapparrarsi più che altro il focus. Concediamo con il comando focus questa cosa. E avete ragione a pensare, avreste ragione a pensare, e anch'io, se devo essere sincero, al momento ne ero convinto, che è un buon punto per andare a comandare questa cosa qua, sia qui, dopo aver caricato la combo dei valori, aver assegnato il selected index, ok, vado a dire al prodotto TXT di prendersi il focus. Ma non funziona. Quindi faccio partire. Vedete che non è qui, devo ancora fare click. Perché non è ancora in grado di sentire, di agire per il focus. Lo devo fare in un momento leggermente successivo, ok? Quasi sempre va bene qui, ma non è l'unico punto. Un buon punto può essere non tanto quando la finestra viene in qualche modo attivata la prima volta, perché potrei avere anche due o tre finestre, passare dall'una all'altra, preferisco dire quando viene attivata questa finestra, è uno dei metodi, degli eventi più utili, quando la finestra viene attivata, allora il prodotto TXT attira il focus. Andiamo a cercare questo evento. Quindi selezioniamo la finestra, perché è un evento della finestra, facciamo click qui sul pulsante che attiva l'elenco degli eventi e scorrendo c'è il load che forse potrebbe andare bene anch'esso. Ma sono sicuro che l'activate non darà problemi. Volevo leggere con voi la descrizione, fatemi rimpicciolire la finestra. Generato quando il form viene attivato. Proviamo. Faccio un doppio click qua in questa casella e mi si apre la finestra dell'editor. Provo qui. Prodotto. TXT.focus e rilancio con F5 e questa volta il cursore è già lì e ha funzionato. Bene. Poi probabilmente ci sarà anche un altro punto in cui vorremmo comandare questo. Ad esempio quando faccio un nuovo scontrino. Poi quando arriviamo anche lì metteremo di nuovo magari puliamo l'elenco e vedremo di resettare l'area di lavoro e poi però per ripartire di nuovo dovrò comandare ancora prodotto.txt.focus ma ormai sappiamo già come fare. Continuiamo prima con le cose più semplici. Far chiudere la form facendo click su file chiudi. Fate doppio click sulla voce chiudi a cui io non ho dato un nome quindi volendo facendo un singolo click si potrebbe prima andare a dare un name volendo a questa voce del menu chiamarlo tipo chiudi chiudi menu per poi dicevo con un doppio click ecco qua il comando è semplicemente close e voi direte beh ma non c'è davanti il nome di un oggetto non c'è davanti un x.close il nome di una test box perché qua posso usare questo comando? perché io sto dando il comando alla form e io qui sono proprio nella zona metodi della form quelli che io sto scrivendo per far funzionare i bottoni i test box e tutto in realtà sono tutti i metodi della form close è a sua volta un metodo della form che ho a disposizione ma dov'è che non c'è? è la forza dell'ereditarietà quando dico che la mia classe form 1 deriva dalle forme di windows io mi ritrovo d'un botto con centinaia di comandi e anche di variabili che uso solo se mi servono senza bisogno di fare un copy and call del codice questo è ereditarietà allora nella mia form 1 mi ritrovo anche il comando close che posso usare quando voglio e allora io lo voglio usare quando qualcuno fa appunto click su quella voce di menu vediamo se funziona chiude grazie a tutti